Associati olivicoltori ben ritrovati alla 43esima edizione del periodico 23 ottobre 2020. Negli olivetti si sta allacremente raccogliendo le olive che quest'anno hanno una notevole quantità di produzione. Si è richiesto alla Regione Vento e al Ministero di aumentare le rese ad ettaro per l'olio estravergine di oliva Veneto DOP e per l'olio estravergine di oliva Garda DOP. Già da circa dieci giorni sono arrivate le autorizzazioni. Guardate all'interno del nostro sito www.ipoverona.it e andrete a vedere le quantità di olive che potete portare al frantoio ed essere trasformate in olio certificato. Le rese in olio quest'anno sono basse rispetto alla media. Abbiamo avuto in questa settimana una media di olive trasformate in olio che variano dall'8 al 9,5%. Otteniamo invece degli oli che hanno dei profumi intensi e questo probabilmente è dovuto perché abbiamo alla mattina delle temperature che mediamente sono sui 5-6 gradi centigradi. Questo comporta che quando noi portiamo le olive in frantoio le basse temperature della frangitura e delle olive dopo della gramolatura riescono a sviluppare attività enzimatiche tali da dare dei alcoli e aldeidi dalle intensi profumi di erba appena falciata. Riscontriamo anche quest'anno la presenza di profumi da carciofo ed è una novità per i nostri oli del nord Italia perché questa sensazione l'avevamo sempre riscontrata in oli del centro del sud Italia e quelli delle isole. Bene quindi abbiamo degli oli anche con valori di acido oleico elevato superiore agli standard normali anche questi probabilmente dovuti agli sbalzi termici fra il giorno e la notte. La mosca delle olive con queste temperature lo sviluppo del ditero ha dei problemi e pertanto non effettuate più alcun tipo di trattamento. Se eventualmente trovate delle infestazioni tali da richiedere un intervento fitosanitario valutateli, telefonate all'aipo che così almeno andremo a valutare le necessità. Parassiti fungini, occhio di pavone, le lunghe bagnature foliari che abbiamo alla mattina e che durano fino alle 10 e alle 11 della giornata danno la possibilità a questo patogeno di svilupparsi bene e notevolmente e sarebbero necessari un intervento fitosanitario però in questo momento che siamo in un'attività di raccolta non abbiamo i tempi di carenza necessari ad attuare un'azione di contrasto. La settimana scorsa vi abbiamo parlato che avremmo fatto un incontro con l'Università di Padova e il servizio fitosanitario. E' stato eseguito e sono venute fuori anche delle novità perché si è andati a discutere tutta l'attività di ricerca attuata durante il periodo estivo. Cancri rameali e botryosferie unite alla fitoftora, anche questo un parassita funginio che però è nelle radici, sono la causa della nostra cascola verde. Vale la pena di conoscerle e andremo a riportare sintomatologia e attività di contrasto. E adesso un arrivederci alla settimana prossima.